Ciao a tutti, oggi faremo insieme la famosissima torta Saker. Era da tantissimo tempo che volevo proporvi una mia versione e sono felicissima di aver dato vita a questo dolce meraviglioso. Più leggero dell'originale, ma senza perdere la sua immensa bontà. L'avete mai provata la Saker in padella? Senza burro, senza latte, con la glassa all'acqua e con la marmellata senza zucchero? Se la risposta è no, dovete assolutamente rimediare seguendo questo tutorial passo passo e sentirete quanto è golosa, soffice, uno spettacolo sia per occhi che per palato. Guardate che bella questa fettona, non vi fa venire voglia di mangiarla in un sol boccone? Ed ecco il mio momento preferito, la forchetta che affonda in questa nuvoletta di cioccolato. Mamma mia, che meraviglia! Fatemi sapere cosa ne pensate, vi abbraccio forte forte, ciao!